Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Zanyan 271x150. Questi tappeti vengono annodati nella città di Zanyan, nell'Iran settentrionale. Sono solitamente molto colorati e realizzati con lana di buona qualità. I motivi sono geometrici, con un medaglione diamante centrale, che si estende da cima a fondo. Sono tappeti con un buon rapporto qualità-prezzo e fanno parte del gruppo dei tappeti di Amadana. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 10 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.